Siamo all'università statale di Milano all'interessantissimo convegno Unione Europea e Unione Economica Euro-Asiatica e parliamo con l'organizzatrice scientifica Angela Di Gregorio. Racconta di questo convegno, come è nato, perché interessa per la Russia e per l'Unione Euro-Asiatica e cosa possiamo poi avere da quel convegno. Alla nostra università c'è un gruppo di studiosi che da fin prima della caduta dell'Unione Sovietica, quindi fin dai tempi sovietici, studia questi paesi e le dinamiche politiche, istituzionali, culturali, storiche, insomma in un ambito contesto, la Russia, i paesi dell'exursi e anche i paesi dell'Europa centro-orientale. Ogni anno focalizziamo la nostra attenzione su un particolare aspetto delle dinamiche politiche istituzionali e quest'anno abbiamo voluto dedicare spazio a questo fenomeno praticamente sconosciuto in Italia che è l'Unione Economica Euro-Asiatica. Si tratta di una organizzazione che nasce dalle ceneri dell'ex Unione Sovietica ma non ha niente a che vedere col passato. E' un progetto proiettato in avanti verso il futuro e si basa su delle solide basi economiche di interconnessioni energetiche, economiche ed infrastrutture tra alcuni di questi paesi. In particolare la Russia che è ovviamente capofila di ogni iniziativa di tipo organizzativo nell'area, Kazakhstan e Bielorussia che sono i tre paesi fondatori di questa Unione, cui si sono di recenti aggiunti anche Armenia e Kyrgyzstan. Si tratta di un fenomeno nuovo, potenzialmente molto importante anche nelle relazioni con l'Unione Europea, non solo in termini commerciali ed economici ma anche in termini di scambio culturale. L'Italia in particolare ha sempre avuto un'attenzione privilegiata per la Russia e ci sono molti centri di ricerca sia a livello culturale e linguistico ma anche sempre di più a livello giuridico ed economico. Quindi non solo per motivi puramente economici di scambi commerciali che sono sempre stati particolarmente floridi tra l'Italia, la Russia e l'ex Urs, ma anche di recente sotto gli aspetti politico-istituzionali e giuridici. Visto che il termine è poco noto, io voglio chiedere quale è la differenza e quale è la similitudine tra Unione Europea e Unione Euro-Asiatica e se è il stesso progetto che sta costruendo la Russia, Kazakhstan e Bielorussia e altri due paesi nominati. Espressamente i supremi leadership di questi paesi si sono richiamati all'esperienza dell'Unione Europea e hanno proprio modellato la struttura istituzionale e organizzativa di questa Unione che ha avuto anche degli step precedenti di avvicinamento a questa integrazione si sono espressamente richiamati al modello dell'Unione Europea. Ovviamente l'Unione Europea per arrivare all'attuale livello di integrazione anche giuridica oltre che economica ha impegnato molti anni, quindi dal 1957 ad oggi e i problemi di interazione tra gli Stati nazionali e le istituzioni europee non sono ancora oggi facili quindi è un cammino ancora in itinere. Diciamo che Russia, Bielorussia e Kazakhstan partono avvantaggiati dall'avere dei legami economici, culturali e linguistici il fatto di avere una lingua comune, una lingua franca che è il russo è un fattore importantissimo e noi non lo abbiamo partono quindi avvantaggiati, quindi lo stesso Putin in quel famoso discorso dell'ottobre 2011 in cui ha lanciato questa nuova tappa integrativa, l'Unione Euroasiatica, economica Euroasiatica ha richiamato il modello dell'Unione Europea dicendo però mentre l'Unione Europea ha impiegato 40 anni per raggiungere un certo grado di integrazione noi possiamo farlo molto più velocemente e le intenzioni sono quelle di velocizzare al massimo bisogna vedere se poi fattori economici e fattori giuridici non ostacolino questo percorso così come si è visto anche all'interno dei paesi dell'Unione Europea E quindi l'Unione Euroasiatica e l'Unione Europea possiamo considerare non sono come concorrenti ma come sono oggetti che collaborano e in che cosa possono collaborare e in che modo? Possono collaborare e si può fare molto purtroppo adesso con la questione sia della crisi economica che delle sanzioni contro la Russia diciamo che lo sviluppo economico commerciale è piuttosto bloccato ma noi auspichiamo e anche molti dei relatori della conferenza di oggi un avvicinamento anche degli standard commerciali affinché l'integrazione europea e l'integrazione euroasiatica non siano qualcosa di conflittuale ma possano ragionare negli stessi termini Ricordo infine che l'Unione Euroasiatica e i paesi membri dell'Unione Euroasiatica sono anche quasi tutti membri dell'Organizzazione Mondiale del Commercio così come i membri dell'Unione Europea per cui questa comune cornice esterna può aiutare a sviluppare ulteriori legami che poi addirittura in futuro possono andare ancora verso più ad est per esempio la cooperazione di Shanghai la Cina stessa ha un grande interesse nei confronti dell'Unione Euroasiatica quindi io direi che è un tema molto attuale e che promette sviluppi molto interessanti per il futuro e che dobbiamo studiare e seguire se non vogliamo essere come al solito tagliati fuori La Nora Borbiani, buongiorno volevo chiedere qual è la funzionalità delle Camere di Commercio Buongiorno a lei la nostra Camera di Commercio che rappresento è quella italo-russa è un ente bilaterale che è stato voluto nel 1964 per parte russa e per parte italiana allora per parte sovietica noi supportiamo le imprese italiane non soltanto le grandi imprese ma anche e soprattutto le piccole e medie imprese italiane che decidono di fare attività di scouting e rafforzare poi la propria presenza sul mercato russo nello stesso modo diamo supporto alle aziende agli imprenditori russi che invece vogliono venire in Italia per trovare delle nuove opportunità Va bene, quali sono i rapporti tra Italia e Russia adesso? I rapporti tra Italia e Russia sono sempre ottimi parliamo sempre di relazioni privilegiate quindi anche in un contesto abbastanza critico di relazioni internazionali soprattutto poi di relazioni economiche e commerciali con la federazione russa degli ultimi due anni direi che comunque rimangono delle relazioni ottime voglio ricordare che il 3 di 9 di dicembre a Mosca c'è stata una colazione di lavoro che la nostra Camera di Commercio Italo-Russa ha voluto offrire al Ministro Lavrov la presenza dell'imprenditoria italiana presente in Russia e questo ha voluto rafforzare ancora una volta l'attenzione che gli imprenditori italiani e tutta l'Italia ha per il mercato russo ma nel medesimo tempo poiché è stato un invito accettato immediatamente direi anche l'attenzione che la parte russa le istituzioni russe hanno per l'Italia, il mercato italiano e le aziende italiane Cosa si può fare negli ultimi anni per migliorare questi rapporti? Credo di non avere delle ricette innovative ma sicuramente non perdere di vista il mercato russo perché tutte le posizioni che andremo a perdere in questo momento sarà difficile riuscire a recuperarle io ho qualche dato purtroppo non sono dei dati positivi lo sappiamo che l'interscambio già nel 2014 aveva visto diminuire la propria quota e purtroppo i dati del 2015 confermano anche quelli finali dell'anno confermano questa tendenza per cui l'interscambio del 2015 si è sestato intorno ai 27 miliardi di euro 27 virgola qualche cosa se pensiamo al 2014 erano oltre 36 miliardi di euro quindi in questo momento stiamo parlando di un interscambio tra la federazione russa e l'Italia di meno 24,3% direi che sono dei dati non confortevoli e non confortanti per quanto riguarda l'esportazione italiana verso il mercato russo nel 2015 abbiamo un dato che si aggira intorno ai 7 miliardi di euro 7 miliardi e mezzo nel 2014 il dato di export Italia su Russia era di 9 miliardi e mezzo quindi abbiamo una perdita anche in questo senso del 21,6% tra le altre cose la nostra posizione in termini di paese partner per la Russia è passata dalla quinta alla quarta posizione a livello internazionale a livello di Europa rimaniamo sempre il secondo partner speriamo di non perdere posizioni anche a livello europeo ma di rafforzarle e di riprendere le posizioni perdute Ok, grazie mille per l'intervista Grazie a lei e auguro ovviamente buon lavoro a tutti gli imprenditori italiani sperando che a metà di questo anno visto che si parla di prendere in seria considerazione l'opportunità di eliminare le sanzioni che sono state applicate alla federazione russa da parte dell'Unione Europea degli Stati Uniti e di conseguenza anche le controsanzioni successivamente imposte dalla federazione russa ai mercati europei io spero che questa decisione venga presa e si possa ricominciare di nuovo a costruire visto che il percorso di costruzione non si è mai fermato ma di continuarlo con estremo impegno e forza Cosa devono fare le aziende per il mercato? Le aziende russe che volessero imparare a conoscere il nostro mercato sicuramente possono rivolgersi a noi possono trovare un partner di fiducia nel medesimo tempo dico che anche le aziende italiane che vogliono approcciare il mercato russo o fare attività possono rivolgersi a noi noi ci siamo dal 1964 con la nostra sede a Milano e un ufficio di rappresentanza Mosca dal 1972 quindi per comodità il nostro sito internet visto che ormai le nuove tecnologie sono quelle che ci aiutano e ci supportano anche nella quotidianità è www.cir l'abbreviazione di Camera di Commercio Italo Russa e lì possono trovare una presentazione dei nostri servizi utili appunto a questa attività di scouting i nostri contatti e sapere tutto quello che noi facciamo quotidianamente per le imprese italiane che vogliono andare sul mercato russo e per le imprese russe che vogliono conoscere meglio le opportunità sul nostro mercato siamo con Vittorio Aloi partner Pavia Ansaldo e responsabile per attività russe di quella società importante sul mercato italiano russo vogliamo chiedere cosa è successo in ultimi due anni come va il business se ci sono difficoltà e come le superate negli ultimi due anni ovviamente abbiamo assistito a dei cambiamenti piuttosto radicali per via ovviamente delle sanzioni marzo 2014 quindi ormai sono 24 mesi diciamo di effettive sanzioni occidentali e contro sanzioni russe che si sono fatte sentire come sappiamo soprattutto in alcuni settori alimentare, moda eccetera questo sul piano degli interscambi commerciali sul piano degli investimenti diretti nel paese e invece c'è da registrare una forte volontà del governo russo di accelerare sul fronte del piano industriale di localizzazione che prevede appunto la localizzazione della produzione da parte degli stranieri rispetto alle forti importazioni che hanno caratterizzato il periodo precedente Come siete entrati in questo trend di localizzazione? Noi siamo presenti come studio legale tributario italiano da più di 18 anni in Russia e quindi eravamo già sufficientemente come dire preparati e anzi il nostro il nostro supporto alle imprese italiane è maggiore proprio nei casi di localizzazione industriale quindi di investimenti diretti nel paese quindi diciamo che da questo punto di vista il trend attuale quindi gli incentivi, gli sgravi e le possibilità che oggi il governo russo realizza per agevolare gli investimenti diretti nel paese ci trovano già diciamo preparati da questo punto di vista è il momento probabilmente nonostante la crisi di cogliere queste opportunità sotto molteplici punti di vista individuando i partner e diciamo le località anche geograficamente più interessanti a seconda dei settori della produzione per valutare degli investimenti produttivi nel paese sì quindi ultimamente cosa è più ostacolo o addirittura aiuta un rublo debole rispetto a euro dollaro o sanzioni è giusto quello che che dice il rublo debole quindi la svaluta forte svalutazione del rublo si è fatta sentire soprattutto sotto sotto il profilo diciamo della della perdita di una sostanziale riduzione della capacità di spesa dei cittadini russi e quindi ha contribuito in maniera essenziale unitamente alle sanzioni ovviamente a ridurre il volume delle importazioni di beni di consumo dall'altro da un altro punto di vista cioè quello degli investimenti diretti nel paese invece il rublo debole è o può essere un punto di forza in quanto ovviamente i costi che si vanno a sostenere nel paese rispetto a quelli che diciamo a parità di importo di equivalente in euro anche soltanto due anni fa creano una situazione di maggiore favore e quindi diciamo sicuramente questo elemento della forte salutazione del rublo può essere un elemento direi addirittura sostanziale per valutare appunto la convenienza di investimenti diretti si sa e ci rimane questa opinione in Europa e nel mondo che la Russia dipende molto dal petrolio e ovviamente di gas da prezzi e quindi la Russia fortemente paese di cui budget fornito dall'introity del petrolio ma si scorda altro punto di vista altro lato della Russia lato tecnologico innovativo quindi sa dire qualcosa anche in questo aspetto della Russia come ha cambiato ultimamente ma chi conosce bene il settore industriale diciamo russo il tessuto economico russo sa che certamente gran parte del budget statale federale è costituito effettivamente dall'esportazione di materie prime gas e petrolio in primis forse però non tutti sanno che o non tutti ricordano che la Russia è sicuramente un paese che oltre alle materie prime ha già sviluppato sviluppato in passato a una tradizione in questo senso ma negli ultimi anni comunque è andata avanti in questa direzione una propensione a prediligere investimenti in settori innovativi o a forte diciamo tasso tecnologico come dimostra addirittura una recente una recente ricerca di Bloomberg che colloca la Russia al dodicesimo barra quattordicesimo posto tra le prime cinquante economie mondiali come tasso di innovazione tecnologica quindi parliamo di un paese che certamente è noto e ripeto basa in buona parte il proprio budget federale sulle materie prime ma è la costante ricerca e in questo l'Italia sicuramente potrebbe dire la sua di ulteriori passi in avanti investimenti in settori a forte valenza tecnologica lo dimostra anche una serie di strumenti agevolativi ad esempio della penetrazione di imprese imprese straniere ad esempio nei parchi tecnologici o diciamo attraverso anche strumenti legislativi che agevolano il trasferimento di tecnologia e di know-how da parte di imprese straniere si quindi può dare qualche nome di qualche contratto interessante negli ultimi anni il vostro diciamo punto d'orgoglio ma diciamo diciamo che noi ci muoviamo ci muoviamo a fianco delle imprese italiane da tempo non soltanto di quelle grandi o medio grandi talvolta diciamo le esperienze più interessanti sono sono venute anche accompagnando imprese diciamo di dimensioni di dimensioni non enormi ma in in progetti in progetti particolarmente interessanti diciamo che se devo citare una delle esperienze più interessanti degli ultimi mesi diciamo dell'ultimo anno probabilmente citerei la nostra esperienza a fianco di alcuni operatori piuttosto importanti nel settore e-commerce quindi vendite online direttamente sul mercato russo mi riferisco a imprese italiane e non italiane nel settore abbigliamento diciamo moda di medio alto livello che per effetto di alcune novità normative introdotte l'anno scorso si trovano si sono trovate a dover diciamo rispettare mettersi in regola diciamo così con questa nuova normativa ad esempio in materia di trattamento dei dati personali che che ha richiesto un certo studio e una una certa diciamo un certo approfondimento in questo in questo campo si quindi prezzi di petrolio basso rublo debole o no in qualsiasi sanzione o no voi continuate a lavorare con la Russia considerate come partner principale e quindi vi auguriamo di fare questo business sfruttando i momenti migliori anche quelli che ha appena detto e magari anche le normative legislative russe che infatti adesso è interessato tantissimo nel cogliere investimenti stranieri tra cui anche Italia sta molto bene in posizione seconda paese dell'Europa e quarto nel mondo se non mi sbaglio assolutamente da parte nostra insomma come studio italiano certamente manterremo diciamo le posizioni d'altro canto mi faccio anche dire che questa non è la prima crisi economica e finanziaria diciamo che viviamo in Russia perché è già la terza o quarta da quando siamo sbarcati in Russia e quindi certamente ecco non sarà questo il momento in cui abbandoniamo le posizioni allora visto che siete anche delle organizzazioni cosa pensate di quello convegno cosa pensavate che se fosse come sta andando e quale risultato pensate di ottenere da quel convegno da questo convegno prima di tutto speriamo che sia costruttivo e poi cerchiamo di portare più vicino la politica l'influenza della Russia e dell'Unione Euro-Asiatica in Europa e l'Università di Milano si sta occupando e sta ricercando tantissimo su questo argomento durante la conferenza abbiamo cercato di evitare argomenti sensibili perché ormai dipende dalla politica internazionale non da noi non possiamo classificare o giudicare speriamo la conferenza sarà una produttiva per tutti sia per gli ospiti sia per noi sembra davvero che la clima più costruttiva che è conflittuale questo è veramente forse il primo risultato di quell'evento lei cosa vuole dire? che la conferenza in sé è una grande opportunità per tutti partecipano molti esperti provenienti da diversi paesi quindi si crea a mio avviso una grande opportunità di dialogo le opinioni non sono mancate ma il confronto il dialogo è quello che permette a tutti noi di conoscerci meglio per cui in questo senso la conferenza a mio avviso sarà un passo avanti allora e dove sono i concluzano, dove sono i concluzano. In mese 2014 era una scuola di creazione di sviluppo di sviluppo che sta un'organizzazione di sviluppo di sviluppo di sviluppo dopo il fatto che è stato iniziato il sviluppo di sviluppo di sviluppo di sviluppo di sviluppo possiamo dire che questo è una parte molto storica Grazie a tutti. 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 12 milioni turisti, rossi i ragazzi, attraverso la 50% in 2014-2015, e la 35% aumenta la maggioranza di economia. Quindi, per l'economia, per l'economia, per l'economia, per l'economia, per l'economia europea, ma è un'altra questione, che è un'economia, ma è un'economia, più efficace, più migliorare, in questo modo, che creano economico oppure, come FRA, Francia, Vigilità, c'è un'economia, in cui situazione, ovunque, in cui, ovunque, in cui, ovunque, in cui, in cui, avunque, in cui, avunque, 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 stanno e questi contatti. Queste problematiche sono, e le fanno, ovviamente, interagire. Bene, allora andiamo ad E-Sоюza a questione di Russia. Russia è una mononazionale strana, e, in questo caso, questioni questioni, come Russia rischia questi problematiche, e come voi, in particolare, noi sappiamo che voi lavorate, se stanno allora presentatevi, raccontate un po' come risposta i problemi in Russia e come questi problemi possono aiutare in rafforzare o conflitto con il conflitto o con il conflitto con l'Europa e la Russia. Nazione problemi non solo in Russia, ma per il mondo è una delle problematiche delle problematiche in Russia, per deni ultimi tempi, vivono 193 e non solo in rafforzare di una delle problematiche i finno-ugurzare, i turcchi, i sloveni e non solo in rafforzare e non solo in rafforzare i presentatori post-savetico in rafforzare come si diceva l'islandi dramaturgo Bernard Shaw, la questione è una questione come un po' come un po' come un po' come tutto tutto è in ordine, il modo che si senti bene, ma quando ci sono problemi, il modo che si senti problemi, il modo che si senti problemi della sua protezione, problemi dell'etnico. Il modo che si senti in questo modo, perché oggi, se si guardiamo la meseetniche, in conflitti situazioni, in cui c'è il risultato che non è увеличito, ma parla di risultato che entniche, religiose, mежetniche, mежreligiose e altri problemi, связiare con l'etniche прирodone, hanno un pollo significato. E io in questo punto занимo la sua juridica antropologia, che è un направimento che è la stessa etnografia e l'urisprudenza. Penso che in ultimi anni, come si dicevano in europeo, la sociao-culturale antropologia, nerede scelta, credo che è un'interessante, in realtà potenzialo etnografia o la sua dimensione, la sua dimensione, la sua dimensione, è colossale. anche quando l'etnicità e religiosità rispondrano soltanto ma che la religione è importante l'etnosa e in questo punto Europa è anche etnicamente molto diversa e in osso di questo l'amore, che è il nostro è il nostro e il mondo molto con un schablon queste направления Конечно, Россия в этом смысле уникальная страна, а мы сформировали такой уникальный опыт регулирования этих отношений, такого межнационального сотрудничества. Могу сказать, что буквально пару лет назад в Мордовии, откуда я приехала, праздновали в соответствии с указом президента тысячелетие единения мордовского народа с народами российского государства. И действительно в XVI веке Мар-2, войдя в состав российского государства, фактически заложила основу многонациональности нашей страны. И после уже нас стали входить и Россию дополняли другие народы. И естественно, они входили не просто сами по себе, они входили вместе со своими территориями. Таким образом, иногда говорят, что вот несправедливо, такая у нас огромная страна. Но всё это складывалось не в одночастие. Всё это формировалось, собирались земли в разных условиях, в разных конкретных ситуациях. И вот даже был такой стереотип, что дореволюционный период истории, это, так сказать, политика тюрьмы народов, это, в общем-то, не совсем так. Царское правительство очень умело подходило к реализации национальной политики. Вот, например, устав об управлении народцем 1822 года, совершенно уникальный документ, и он до сих пор, вот, многое с того устава, казалось бы, начала 19 века, не воплощено даже в мизерной доле в современной политике. Потому что, например, у нас, мы говорим, хотя вот наша, конечно, конституция в своей преамбуле начинается с таких слов, мы многонациональный народ Российской Федерации. То есть мы, и многое в Конституции заложено позитивного с точки зрения защиты вот аборигенных коренных народов. И это очень важно. Правда, вот, если говорить в последующем, там, федеральное законодательство только в 90-е годы было принято, там, о защите прав коренных малочисленных народов. Но там далеко все тоже несовершенно. И вот выстраивание национальной политики и в России, и вообще в Европе, в мире, это очень важный вопрос. Поэтому он, на мой взгляд, вообще должен регулироваться на уровне ООН, на уровне крупных международных организаций. Потому что многие вопросы даже сейчас, и украинский кризис, и сирийский кризис, а до этого другие преобразования, что это? Это по существу, это, может быть, мы вообще, сейчас 21 век, это движение народов. Почему? Потому что не государство формирует народы, это законная этнография, а народы формируют государство и государственные границы. И народ – это первичная материя. И происходят как движения, религиозные процессы, этнические процессы, они идут. И остановить человек их не может, он может пытаться регулировать эти процессы. И, конечно, там религии, идеологические все соображения. Все это способствует этому движению народов. И зачастую это как лавинообразно может происходить. Мы не можем порой активно влиять на природные явления. Точно так же и этнос. Вот я сегодня ссылалась на Льва Николаевича Гумилёва, который говорил о том, что если мы, Россия, должны преодолевать какие-то вопросы, мы должны преодолевать их через евразийство. Он же автор концепции того, что этнос – это не просто социальный организм, это биосоциальный организм, он связан с природой. И вот в этом смысле, что и этничность может развиваться нередко стихийно, объективно. А, конечно, человечество должно стремиться регулировать, но регулировать сознанием дела. И вот это важнейший вопрос. И мы, конечно, в своей республике стараемся, что касается финно-угорских отношений, что касается межнационального согласия, и вот реализация указа президента, Владимир Владимирович Путин приезжал на это празднование. Приезжал. И даже, вы знаете, вот такой нюанс во время его приезда. Он приехал, и когда он вышел к памятнику единения Мордвы с народами России, и он посмотрел и увидел, как много людей. А в Саранске, ну, по разным меркам, 325 тысяч человек проживает. И он увидел лица людей, которые совершенно искренне говорили о том, что Россия, вот Мордовия. И он, даже у него отношение, настроение изменилось. Он как бы подвергся вот такому позитивному влиянию людей. И поэтому в наш регион, вот если вы приедете, мы вас приглашаем, потому что туризм должен развиваться. И россияне должны приезжать в Италию, и итальянцы сейчас очень модный этно-туризм. Допустим, Саранск за последние 10-15 лет колоссально изменился, потому что очень большая поддержка была от федерального центра. И эта поддержка не случайна, потому что нужно вкладывать в свои народы, чтобы народы чувствовали себя комфортно. И тогда они поддержат, тогда будет успешная страна. И вот это важный залог национальной политики. Дарья Баклан из Международной, из Всероссийской Академии Внешней Торговли. И мы разговариваем о Евразийском Союзе и Европейском Союзе. То есть, как вы считаете, это две организации, они конкуренты, они друзья, как они могут, то есть, как они соперничают и как они могут взаимодействовать? Это очень сложный вопрос. С одной стороны, они конкуренты, с другой стороны, конечно, они должны сотрудничать. И только в случае взаимно выгодного сотрудничества обе организации смогут эффективно существовать, эффективно действовать в интересах как стран-членов Европейского Союза, так и стран-членов Евразийского Экономического Союза. Европейский Союз существует уже давно, более 50 лет. Евразийский Экономический Союз возник всего лишь год назад и в большой степени ориентируется на опыт и практику Европейского Союза. И, конечно, на мой взгляд, единственный путь — это сотрудничество. Поле для сотрудничества очень большое, огромный товарооборот. И вопреки всем политическим сложностям и экономическим сложностям наша задача — выработать единственную возможную взаимовыгодную стратегию сотрудничества для Европейского Союза и для Евразийского Экономического Союза и двигаться дальше в светлое будущее. Еще европейцы абсолютно не знают ничего про Евразийский Союз, и они считают, и так пишет вся европейская пресса, что это конструкция Путина, который пытается возродить Советский Союз. Какая, по-вашему, разница между Евразийским Союзом и бывшим Советским Союзом, и что взято лучшего, и чем они отличаются? Разница принципиальная. Евразийский Экономический Союз никакого отношения не имеет к Советскому Союзу. Советский Союз — это единое государство, созданное из объединенных народов, которые дали свое согласие на существование в едином государстве. Евразийский Экономический Союз — это союз суверенных государств. Я один из авторов договора о Евразийском Экономическом Союзе, и я хорошо знаю, как сложно шел процесс согласования интересов на тот момент только трех государств — Казахстана, Белоруссии и России. И ни о каком доминировании политическом Российской Федерации речь не идет. Это компромиссный, достаточно сложный договор. Договор, фактически, заключенный в интересах на тот момент трех государств, и именно межгосударственный договор с не таким большим уровнем интеграции, как изначально планировалось. Это значит, что государства не отдали такое количество своих полномочий на наднациональный уровень, как планировалось. И это еще вопрос достаточно отдаленного будущего, глубина этой евразийской интеграции. На сегодняшний момент эффективно действует таможенный союз. Это союз теперь пяти именно государств, суверенных государств, имеющих равные права в рамках Евразийского и экономического союза. И мы только надеемся, что эта интеграция будет углубляться со временем. На сегодняшний день она, скажем так, на своем начальном этапе. И еще раз повторю, это объединение суверенных независимых государств. Замечательно. Как, на ваш взгляд, перспективы Евразийского союза? Какие новые страны могут туда войти вовлечение единой валюты и так далее? Как вообще вы видите развитие Евразийского союза по той же модели, как и Европейский союз? Конечно, сегодняшний политический и экономический кризис осложняет, так сказать, скорость евразийской экономической интеграции. Планируется, что единый валютный рынок будет создан через 25-30 лет. То есть это достаточно отдаленная перспектива. На сегодняшний день задача развивать существующие органы. Прежде всего, это Евразийская экономическая комиссия и суд Евразийского экономического союза. эффективность работы суда, на мой взгляд, будет одним из главных показателей эффективности всей Евразийской экономической интеграции. Что касается расширения, конечно, до политического кризиса планировалось и очень бы хотелось, чтобы Украина тоже была частью Евразийского экономического союза, поскольку без Украины по-настоящему глубокая евразийская экономическая интеграция действительно затруднительна в очень большой степени. Но мы существуем в тех условиях, которые у нас сейчас сложились, поэтому наша задача развивать евразийскую интеграцию с учетом таких специфических достаточно сложных условий. Из Всероссийской Академии внешней торговли. Итак, Газпром, то есть Россия, Европа, Россия является основным поставщиком газа в Европу и пытается найти новую линию, соответственно, Северный поток 2, но встречаются всякие осложнения на европейском уровне. Как Вы считаете, насколько применим третий энергопакет к международным проектам Газпрома? Безусловно, те инфраструктурные проекты, те газопроводы, которые Газпром строит на территории Европейского Союза, они подлежат регулированию в рамках третьего энергопакета. Безусловно, Газпром находится под прессом и Европейской комиссии, и государственных членов, которые имплементируют третий энергопакет. И сейчас Российская Федерация подала еще в 2014 году иск в орган по разрешению споров ВТО, оспаривающий этот третий энергопакет. И, в общем, мой доклад на этой конференции был связан с разбором этого иска и анализом того, каким образом могут строиться отношения в области газа между Россией и Евросоюзом. Вам не кажется, что отношения к России и Газпрому достаточно предвзятое, потому что, например, проект на южном направлении, который был на БУК, почему-то его хотели исключить из третьего энергопакета, а южный поток российский, его пытались включить. Он, соответственно, умер, по разным причинам мы не будем, но, соответственно, вот такое отношение, я думаю, Россию и Газпром удивляет. Вы понимаете, задачей юристов, политиков и людей, вовлеченных в процесс является поиск решений. Поиск решений в любой сложной ситуации. Ведь мы можем обижаться на некие регулирования Газпрома, но всю эту процедуру прошли крупные европейские компании. И компания EON, и компания Gazde France, итальянская компания ENI. и здесь ведь, собственно, Европейский Союз претендует лишь на отделение инфраструктурных проектов внутри Евросоюза. Поэтому основные задачи Евросоюза понятны, они на повестке дня. Это так называемая безопасность поставок, это отсутствие доминирования на рынке, это справедливое ценообразование. Я думаю, что у Газпрома, у Российской Федерации, у других независимых поставщиков газа в Российской Федерации есть достаточно инструментов, чтобы, понимая озабоченности Евросоюза, найти возможные инструменты для того, чтобы обеспечить то, что называется security of supply, то есть безопасность поставок, а со своей стороны обеспечить то называемый security of demand, потому что так или иначе Европейский Союз основной покупатель российского газа и Россия также заинтересованы в обеспечении безопасности таких поставок. Не было бы достаточно натурально, например, третий энергопакет включает в себя доступ к половине емкостей газопроводов, то есть, если ты хотите взять половину, платите половину, то есть достаточно. Ну, все эти, все это регулирование стало следствием того, что по-прежнему инфраструктура газовая на территории Евросоюза принадлежит Газпрому, безусловно. И здесь Газпрому нужно взвесить, что является более ценно для Газпрому, оставить за собой в собственности эти газопроводы и получить некий фиксированный тариф за прокачку газа или, может быть, обеспечить независимость во владении этим газопроводом и взамен получить гарантии того, что газ будет покупаться в течение 20 или 30 лет. И здесь чисто коммерческий вопрос, и я, как юрист, считаю, что любые экономические проблемы можно решить юридическими средствами. То есть, как раз здесь вы и сказали как бы пути компромисса между как раз решение таких споров я подозреваю. Еще один такой вопрос. То есть, естественно, когда были цены на нефть 143 доллара за баррель, и, соответственно, цены за нагаз были привязаны к нефтяным ценам, это был рынок страшно интересный, за это можно было заплатить сейчас, за очень низкие цены. газпром сам не знает насколько выгоден европейский рынок, тем более есть еще политическое движение вытеснения газпрома с рынка, замещение сванцевым газом из Америки. Безусловно, я бы не назвал это политическим явлением. Любой потребитель заинтересован в диверсификации поставщиков, а поставщик заинтересован в надежности поставок. Я думаю, что имея в виду вот такую потребность диверсификации, газпром сможет найти необходимые инструменты или речь идет о Российской Федерации в целом, ведь собственно для российской газовой отрасли проблема злоупотребления доминирующим положением и такая проблема вот этого разделения она тоже стоит, ведь даже в проекте энергетической стратегии России закреплена возможность отделения монополистических от конкурентных отраслей в России и другие независимые производители газа, новотек, например, то есть эта проблема не только европейская, это проблема и российская. Я думаю, что вот к таким переговорам должно подключиться государство, потому что и сейчас это обсуждается, например, Дмитрий Анатольевич Медведев в 2008 году обозначил возможность заключения международного соглашения о надежности, обеспечении надежности поставок это соглашение было представлено. Я думаю, что ключ в решении газовых проблем российских и европейских, а это проблема общая, потому что с одной стороны покупатель, другой поставщик, он лежит как раз в заключении международных соглашений. Наверное, в такое соглашение даже у них увеличены и Украина, и Белоруссия, как транзитеры. Если мы поймем, что проблема газа это проблема не Газпрома только, а это проблема прежде всего Российской Федерации и Европейского Союза, и государств-членов Европейского Союза, то решение может быть найдено с гораздо большей вероятностью, чем если речь идет просто о Газпроме. То есть вы заговорили про Украину и, естественно, то есть есть с одной стороны тенденция Газпрома, сказали, что в 2019 году они хотят отказаться от Украины как транзитной страны. Я не знаю, насколько это будет. Естественно, это будет зависеть от реализации всех будущих проектов Газпрома. Но как решение например Газпрому не стоит просто продавать газ на границе с Украиной, а дальше уже Украина будет. Как вы думаете? Ну, это вопрос коммерческой стратегии. Я считаю, что основное это безопасность поставок, причем как с одной, так и с другой стороны. А что будет наиболее удобным и эффективным инструментом для этого покажет премия, покажет текущая политика, покажет отношения с странами транзитной страны и Украина в том числе. Спасибо большое. Карл Фраппи, Испи, эксперто на энергия. И поэтому, как эксперто на энергии, задавайте что парня по поддержке Россия-Уропа в campo энергетикам и с третьим пакетом энергии и с новыми проектов Газпрома и с Туби. Путорых, а наиболее Нумерамо спортидные цифровые tutto sommato a voler essere ottimisti, a voler guardare oltre le difficoltà che oggi il rapporto tra Unione Europea e Russia incontra si può sottolineare come nell'attuale condizione di mercato, ossia una condizione determinata evidentemente da un eccesso di offerta probabilmente la prospettiva di una minaccia russa portata attraverso l'energia che purtroppo per lungo tempo ha in qualche modo condizionato la visione europea dei rapporti con la Russia oggi forse potrebbe venire meno, quindi oggi forse più che in passato potremmo trovare finalmente un modo per impostare le nostre relazioni bilaterali dal punto di vista energetico in una maniera che possa essere reciprocamente conveniente chiaramente l'energia è parte di un dialogo più ampio politico ma l'energia oggi potrebbe contribuire anche a sciogliere alcuni dei nodi del rapporto politico stesso tra Bruxelles e Mosca Sì, Unione Europea parla di diversificazione di fonti di energie però quello che stiamo vedendo sul fronte di nord africano questi paesi diventano sempre più vulnerabili e diciamo che forse non tanto sicuri Statoil da un lato è sicuro ma ha sempre risorse limitate che stanno scendendo quindi la Russia rimane sempre partner affidabile lasciando stare il passaggio Ucraina tutto il resto non è mai tradito l'Europa nel gecimenti quindi forse rimane anche Shell Gas americano come un nuovo fonte La Russia ha sicuramente dimostrato di essere un partner affidabile anche al di là poi delle crisi congiunturali di carattere tanto commerciale quanto evidentemente politico che hanno creato problemi nel corso del passato decennio Detto questo, secondo me è importante sottolineare però come oggi più che in passato la necessità per la Russia di vendere il proprio gas di commercializzare il proprio gas in un continente europeo che comunque rappresenta il suo principale mercato e quindi una delle principali fonti di entrata per il budget statale russo e dall'altra parte la necessità per l'Europa di assicurarsi approvvigionamenti sicuri e stabili potrebbero finalmente incontrarsi e rilanciare ripeto anche su un piano politico la partnership bilaterale Quindi parliamo sempre di soluzione win-win per la Russia e per l'Unione Europea ovviamente Assolutamente, rimane il fatto che l'Unione Europea dovrà fino in fondo assumersi le proprie responsabilità anche nella stabilizzazione di quelle aree di confine, di quei territori di transito e penso in particolar modo all'Ucraina ma in qualche modo anche alla Bielorussia stabilizzare i quali evidentemente sono nell'interesse sia di chi vende gas che di chi da questa parte lo compra Grazie a tutti